Signori, Tenet, appena noleggiato. Appena. Due giorni. Perché l'ho già visto due volte. E se c'è una cosa chiara di questo film, che non c'è niente di chiaro. È un vero e proprio casino. Non dico che non sia fatto bene, perché come effetti speciali io gli darei otto, anche otto e mezzo. La storia è un casino. Mi sa che forse uno per capirlo bene deve essere un po' un fisico. Non lo so. Io vi consiglio di guardarlo perché è bello. Certo che è un casotto allucinante. Iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ciao ciao.